Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Bassetti, il medico, l'infettivologo genovese del Policlinico San Martino, dice guardate che in Cina c'è la vera dittatura sanitaria, altro che in Italia si è continuato a parlare di dittatura sanitaria. Perché sui social rimbalzano le immagini dei centri in cui migliaia di persone vengono isolate, la foto del cane robot con il microfono appiccicato con lo scotch sulla parte superiore che dice, dà informazioni su quello che si può o non si può fare, insomma, dice Bassetti questa è la vera dittatura sanitaria. Così si esprime sulle misure che la Cina sta adottando a Shanghai per arginare la diffusione del Covid. Sui social rimbalzano le immagini dei centri in cui migliaia di persone vengono isolate. La città è alle prese con un rigido lockdown, non il lockdown alla Giuseppi che esci, vai in farmacia, vai al supermercato, vai di qui e vai di là, vai a far la corsetta, vai in bici, vai a far la pisciatina al cane. No, questo è un altro tipo di lockdown. Qui devi rispettare le rigide regole del, come lo chiamiamo, regime. Credo che i cinesi stiano, dice Bassetti, prendendo una grandissima cantonata a livello medico e scientifico. Tendere a zero Covid con la variante Omicron è impossibile. Ovviamente, su questo ha ragione, una variante così contagiosa non la puoi ridurre a zero. E poi, perché ridurre a zero quando l'importante non è la contagiosità, ma l'importante sono i ricoveri negli ospedali, quelli sono importanti i numeri, non quante persone sono contagiate. Quindi, per seguire il contagio zero è un'assoluta sciocchezza. Ma Bassetti dice, è evidente che c'è di mezzo anche qualcosa di diverso rispetto alla gestione sanitaria. E certo, in Italia, come lei sa, Bassetti è la politica il decisore, è la politica che decide che cosa fare e non fare dopo i consigli del CTS. creato dal Giuseppi, che serviva per consigliare il governo. Naturalmente, anche in Cina è la stessa cosa. In Cina decide, chiamiamolo governo, ma realmente ci saranno anche degli scienziati che danno dei consigli, ma lì, chiamiamolo governo autoritario, dove o fai quello che dice il governo o fai quello che dice il governo. Non fai certo le manifestazioni no Green Pass, no Vax, no Alpitur, ai 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 ai. Certamente lì non fai nessun tipo di manifestazioni. Lì non c'è paragone leader di tal exit, no Vax, no Green Pass, non esiste. Lì non c'è il leader dei portuali con la sediolina e il tavolino, no. Lì c'è una unica informazione, che è quella della dirigenza, chiamiamola così, che dice è così, punto e basta. Abbiamo deciso che tu fai così, punto e basta. E tu non puoi dissentire, perché è altamente sconsigliabile dissentire dalle autorità cinesi. È assolutamente sconsigliabile. Diciamo così. Ecco, e lì c'è un italiano che da diverso tempo che lì era intervistato l'altro giorno, dice beh adesso basta, adesso prendo e torno in Italia. Eh, caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Bene, poi Bassetti aggiunge questa è una vera dittatura sanitaria e si sta commettendo l'errore gravissimo 35 anni fa con altri virus. Si sta creando lo stigma del virus. Se sei positivo devi essere rinchiuso in una struttura che non ha nulla di civile. Eh, Bassetti, non stiamo parlando della Svizzera. Stiamo parlando della Cina. Eh, 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 eh. Cosa ti devo dire, eh? Lì l'idea è che se tu sei positivo devi essere rinchiuso. E non puoi aprire la porta e manco puoi uscire. No, altro che protesta, no? Scrivere sui social, governo criminale! Eh, non lo puoi scrivere perché i social sono controllati. I social sono rigidamente selezionati e controllati, dove tu, se dici anche solo mezza parola, che può essere interpretata in un altro modo, è altamente sconsigliabile, diciamo. Quindi, caro Bassetti, io non mi stupisco che in Cina adottino un lockdown di questo tipo. Non mi stupisco. Non mi stupisco affatto. Ma lui dice, poi aggiunge, si vedono scene che mi auro vengano condannate dai nostri politici. Ma quale, ma Bassetti, ma ha visto cosa sta succedendo in giro per il mondo? Adesso i nostri politici, tipo Di Maio, non so, DJ Fefe, Fofò, non so, Toninelli, questi politici qua, adesso faranno qualche diretta Facebook a dire non è possibile quello che ho visto. Non credo proprio. E poi, a chi lo racconti, nel senso, non stiamo parlando di un paese europeo. Se fosse successo in un paese europeo, che cosa ne dicono i nostri politici? Ma devi anche capire dove questi fatti succedono. Bisogna contestualizzarli, no? Bisogna contestualizzare il fatto. Dove è avvenuto? In base a dove è avvenuto, fai delle riflessioni diverse. Ecco. E lui aggiunge, non c'è nulla di scientifico, è solo un'esibizione di forza. Eh sì, i regimi fanno esibizioni di forza in modo che dimostrano che nessuno deve sgarrare. No? Queste sono le dimostrazioni di forza. Dicono che tu non puoi uscire di casa perché c'è il lockdown. Tu prova ad uscire e ti trascinano via, ti arrestano. E questo serve per far capire a tutti gli altri che volevano protestare che è vivamente sconsigliabile. Ecco, questa è la realtà. Bisogna sempre contestualizzare le cose. Non bisogna mai dare un giudizio senza contestualizzare. Il debito pubblico italiano è alto. Momento. Il debito pubblico si guarda in funzione del PIL e in percentuale del PIL. Non in quanti soldi è, ma in che percentuale sul PIL. Quindi, come i contagi. Contagi in sé non vogliono dire niente. Vanno contestualizzati. Contagi, vabbè, ok. Ma quante sono le ospedalizzazioni? Questo è l'importante. Ogni cosa va contestualizzata. Non va letta così. I nostri politici che cosa diranno prima? Bisogna riflettere di che cosa e di chi si sta parlando. Grazie a tutti per avermi ascoltato. E buon proseguimento di giornata.